Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense, diverse notizie. In primo piano parleremo anche di uno sgombero qui in città e di diverse novità anche per le nuove strutture che apriranno tra il prossimo anno e quello successivo. Ma andiamo per un attimo in Italia, anzi in Europa, perché è stato tutto rinviato a gennaio, ma intanto l'Italia non sarà sottoposta alla procedura di infrazione e lo spread oggi è sceso a quota 256 per la compagine di governo che dovrà tornare a sottoporre all'Unione Europea appunto la legge di bilancio dopo la sua approvazione in Parlamento e comunque una boccata d'ossigeno. Ma sentiamo tutti gli aggiornamenti e le ultime ore in questo servizio. Dopo l'accordo raggiunto ieri con Bruxelles e la decisione dell'Unione Europea di non avviare la procedura di infrazione per debito eccessivo nei confronti dell'Italia, lo spread oggi è sceso a quota 257. La Commissione avrebbe deciso di soprassedere all'avvio della procedura in attesa di ulteriori verifiche da compiere nelle prossime settimane per tornare a fare il punto della situazione a gennaio. Per adesso il Governo dunque può procedere nella sua azione a ritmo serrato, senza quegli effetti di rallentamento che una procedura di infrazione avrebbe inevitabilmente prodotto. Non abbiamo ceduto sui contenuti della manovra, ha detto oggi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conti al Senato, ringraziando contemporaneamente maggioranza e opposizione per la disponibilità dimostrata in questi giorni, aggiungendo che gli effetti della manovra sui conti pubblici saranno monitorati in maniera rigorosa. Resta comunque la fermezza, ribadito il primo Ministro, sugli obiettivi programmatici di bilancio. Il Governo ora presenterà le modifiche che prevedono la riduzione dei fondi per reddito di cittadinanza e pensioni in Commissione bilancio subito dopo l'intervento del primo Ministro in Senato. Secondo il Vice Presidente della Commissione europea, Baldi Stombrowskis, la soluzione non è certo ideale. Non dà una soluzione a lungo termine ai problemi economici italiani, ha detto, ma ha consentito di evitare per ora di aprire una procedura per debito, posto aggiunto che le misure negoziate, che ammontano a oltre 10 miliardi di euro, siano attuate pienamente. Soddisfattissimi e grati, a Conte, i due Vice Primo Ministro, Di Maio e Salvini. In sintesi, nel braccio di ferro tra Italia e Europa, ha vinto il dialogo, ossia il partito cosiddetto delle Colombe, che ha avuto nel commissario delle affaire economici, Pier Moscovici, uno dei fautori principali. E torniamo a Ferrara adesso per parlare del parcheggio multipiano all'ex MOF della città e quello che dovrebbe sorgere grazie al milione e mezzo di euro del finanziamento richiesto e concesso al Comune dal Fondo Nazionale per lo Sviluppo e la Coesione. Il parcheggio multipiano prenderà il posto delle attuali postazioni a raso e la sua progettazione e realizzazione saranno finanziati da questo bando e dal piano periferie. A comunicarlo è stato l'assessore all'urbanistica del Comune di Ferrara su Facebook, Roberta Fusari. Ed economia, sempre economia ferrarese, imprese nel nuovo anno, nel 2019, sono attese novità per queste ultime perché ci sarà un arrivo importante di risorse dalla Camera di Commercio, pronti subito 1.400.000 euro per gli investimenti. Sono 1.400.000 gli euro stanziati dalla Camera di Commercio per il 2019. Misure, quelle adottate dal lente di Largo Castello, che guardano tutta la crescita e lo sviluppo. In particolare evidenza, nel piano degli interventi, i progetti e i contributi alle imprese per le nuove assunzioni e l'elaborazione di piani di rilancio, ma anche fondi che supporteranno anche l'export delle aziende ferraresi e la candidatura a progetti sui fondi europei. Il Consiglio della Camera, riunitosi martedì mattina, avrebbe poi posto le basi operative per recepire sin da subito la schema di decreto legislativo di riforma delle crisi di impresa in questi giorni all'esame del Parlamento. L'ente di Largo Castello riceverà le segnalazioni da parte dell'imprenditore, gestirà l'intero procedimento di allerta ed assisterà, in collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali, l'impresa nella composizione assistita della crisi, prima che questa diventi irreversibile. Comacchio sempre più divisa sul caso ex Cercom. Dopo le accese contestazioni della scorsa settimana a Palazzo Bellini, che di fatto hanno impedito lo svolgimento del dibattito che sarebbe servito per fare chiarezza sul caso della ristrutturazione della storica fabbrica comacchiese, interviene oggi il presidente della locale delegazione di Ascom. Gianfranco Vitali esprime solidarietà a sindaco e a tutti gli assessori, fatti oggetto di scritte ingiuriose ed anonime, ma non nasconde preoccupazione per le conseguenze che potrebbero ricadere, sia in ambito ambientale che turistico, con la riapertura della fabbrica Cercom. Proprio in questi ultimi giorni infatti alcuni muri sono stati imbrattati, con accusa al sindaco, al comune ma anche alla regione. Chi ne contesta la ripartenza teme che emissioni di vapore, acquo ed eventuali additivi possano avere conseguenze sulla salute dell'uomo, ma anche sulla fauna e sulla flora presente nel parco del Delta del Po, di cui la stessa Comacchio fa appunto parte. Divisioni che al momento sembrano nettamente distanti, tanto che risulta difficile capire quali compromessi si potrebbero raggiungere su questo tema. E andiamo adesso in regione perché c'è una novità importante anche per il territorio ferrarese. Sentiamo qual è. Scuole, biblioteche, edifici pubblici, parchi, piazze, edifici storici e spazi pubblici. E ancora recupero di alloggi di proprietà pubblica e social housing. La svolta sul consumo zero di suoli in Emilia-Romagna fa un suo primo importante passo avanti. Sono 37, infatti, i comuni e le unioni annessi a contributo grazie al bando per la rigenerazione urbana per uno stanziamento complessivo di 36,5 milioni di euro. A partire dai capoluoghi come Parma, Bologna, Ravenna, Rimini, Ferrara, Modena e Reggio Emilia fino ai comuni nel Piacentino e in tutte le altre province, le amministrazioni hanno presentato strategie di riqualificazione ambientale degli spazi urbani e di riuso del patrimonio edilizio esistente per città più belle, verdi e vivibili e per comunità attive e coinvolte. Dimostriamo in modo concreto che si può chiudere un'epoca, quella del consumo di suolo, e si può aprire un mercato, quello della rigenerazione urbana, della riqualificazione delle nostre città, della lotta al degrado urbano. La regione mette in campo 36,5 milioni per un contributo che diamo ai comuni sulla base della loro strategia di qualità urbana ambientale per aprire da qui a un paio di anni cantieri veri per circa 100 milioni di euro. Contiamo di poter sbloccare altri 4-5 milioni entro qualche mese e poi ovviamente la gradatoria verrà progressivamente finanziata in ragione delle risorse che potremmo magari rinegoziare con il governo sulla base dei vari bandi nazionali e europei oppure mettere a bilancio nella prossima programmazione dei fondi europei. Si tratta dei primi interventi conseguenti alla legge urbanistica regionale approvata a fine 2017. Grazie ai fondi, 30 milioni di euro dal Fondo di Sviluppo e Coesione, 6 milioni e mezzo dalla Cassa Depositi e Prestiti per l'Housing Sociale, la regione finanzia piani promossi da comuni singoli e associati o unioni di comuni per migliorare la qualità urbana e sociale dei centri abitati. Parliamo di una notizia, diciamo fuori stagione, ma che interessa anche il litorale comacchiese. È migliorata la qualità delle acque di balneazione in Emilia-Romagna? Migliora la qualità delle acque di balneazione in Emilia-Romagna. Nella stagione 2018 il 97% è risultata eccellente contro il 92%, 5 punti percentuali in meno, del 2017 e il 91% del 2016. Lo dice il rapporto pubblicato da Arpae, che analizza le acque appunto in relazione all'idoneità, alla balneazione e allo stato ambientale. 8 miglioramenti, 4 acque di qualità buona sono passate a eccellente, a Lido di Classe, nel Ravennate, ma anche a Bellari e a Riccione. Altre 4 invece di qualità sufficiente sono passate a buona, Rimini e un'altra zona di Riccione, Misano Adriatico e Cattolica. Con eccellente è stata classificata per la prima volta anche Gatteo. Vicino alla foce di corsi d'acqua la situazione più problematica, tra queste non figure il litorale comacchiese che risulta eccellente, le acque di qualità scarsa sono rimaste tali per il terzo anno consecutivo e parliamo di Rimini nella foce Marecchia Sud e Riccione nella foce del Marano. Andiamo in città per la cronaca blitz contro l'occupazione abusiva di immobili abbandonati oggi in città. Applicando le recenti direttive del Ministero dell'Interno, carabinieri, polizia municipale e personale dell'azienda USL, poco dopo l'alba di oggi, sono entrati nell'area industriale dell'ex distilleria di Ferrara, circa 30 ettari di terreno tra via Modena e il canale Burana. Identificate sei persone, tutte straniere, accampate in condizioni di forte degrado all'interno dei cappannoni abbandonati. Ancora cronaca, ma parliamo di droga, perché una coppia di Formignana è finita nei guai. Lui 32, lei 24 anni. I carabinieri ieri pomeriggio gli hanno perquisito la casa trovando quasi 4 ettri di marijuana, 30 grammi di cocaina e altrettanti grammi di ashes, più tutti gli strumenti necessari per il confezionamento. Arrestata la coppia ora ai domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo. Parliamo di salute, passiamo dalla cronaca alla salute, perché quando si parla di prevenzione di corretti stili di vita, non si tratta di costringere le persone a cambiare da un giorno all'altro le proprie abitudini, buone o cattive che siano, ma indurle a riflettere sulle straordinarie performance del nostro corpo e del nostro cuore, che ne gestisce molte importanti funzioni vitali. A questo scopo è nata la carta del rischio cardiovascolare che il progetto Ferrara, città della prevenzione, mette a disposizione di tutti anche attraverso un'app. Io credo che con la carta del rischio, che peraltro si può fare anche con la facoltà di matematica, abbiamo fatto un'app che si chiama Salva Cuore, quindi se qualcuno fosse interessato lo vada a vedere e si calcola da solo il rischio. Che cosa è importante? È importante che per almeno 5 minuti, perché dura 5 minuti la calcola del rischio, uno pensa che potrebbe avere un rischio cardiovascolare evitabile. In altre parole, in quei 5 minuti uno sta portando il motore del suo corpo, che è un motore eccezionale, perché fa 100.000 battiti al giorno, sposta 9.000 litri di sangue al giorno, che percorrono 132.000 chilometri, tanta è la nostra circolazione ultramicroscopica, eccetera. Vuol dire che si va intorno due volte all'equatore in 27 secondi. Beh, allora, vogliamo pensarci 5 minuti e non pensare, diciamo ogni 6 o 7 mesi, e non pensare di portare il motore della nostra macchina ogni 6-7 mesi a fare il tagliando. Lo vogliamo fare questo tagliando anche al nostro motore, che ci tiene in vita, che ci segue tutte le emozioni, che batte per noi 365 giorni all'anno, mattina e sera. Questo è il significato della carta del rischio. Non poteva essere più convincente e chiaro. Spero convincente anche per chi ci segue, perché abbiamo avuto la percezione, per noi che siamo, non a dette lavori, di una complessissima macchina di cui siamo. Pazzesca. Pazzesca questa macchina. E quindi è giusto che ne abbiamo cura. È molto giusto. Poi siamo anche immessi in una società che ha fatto benissimo, perché la vita media è aumentata di oltre 10 anni, 12 anni. Tra l'altro la cardiologia ha contribuito a 7 di questi anni di aumento della vita media. Però è anche una società, come tutte le cose, c'è il bene e c'è il male, è una società che indubbiamente ci impone, per una serie di motivi, degli stili di vita che non sono necessariamente quelli proprio ideali. È più facile convincere uno a peggiorare lo stile di vita che non a migliorarlo. L'arte e cultura adesso inaugurerà sabato la nuova mostra al padiglione d'arte contemporanea, il pack di Ferrara, dedicata interamente all'artista ferrarese De Pisis. La mostra lancerà anche un anno, il 2019, in cui la città estense in campo artistico vorrà puntare sui propri maestri. Quasi tutte le 70 opere del maestro ferrarese De Pisis sono esposte al padiglione d'arte contemporanea della città estense. 35 dipinti, 7 litografie e 28 disegni. In concomitanza con i lavori di riqualificazione architettonica post-sisma a Palazzo Massari, che diventerà la sede dell'800-900 ferrarese e la contestuale chiusura dei musei ospitati, la Fondazione Ferrara Arte e le gallerie d'arte moderna e contemporanea hanno così organizzato una rassegna che intende restituire alla fruizione del pubblico le opere del grande maestro ferrarese De Pisis. Dal titolo La poesia dell'attimo, dal 28 dicembre prossimo fino al 2 giugno 2019, il pack sarà la casa dell'arte di De Pisis. È un percorso cronologico e tematico grazie alle opere delle gallerie ferraresi riusciamo a ricostruire sostanzialmente tutta la parabola creativa di De Pisis e capire come l'evoluzione della sua arte sia legata in maniera indissolubilmente con i luoghi in cui ha vissuto. Quindi il percorso inizia con il trasferimento da Roma a Parigi, ma avendo ben in mente la Ferrara come lontano ormai incanto metafisico fino poi a proseguire sulla apertura di De Pisis a Parigi. Quindi l'arte di De Pisis si giova, si evolve anche attraverso il contatto con la grande metropoli. Si prosegue con la valorizzazione due grandi capolavori come la lepre del 1983 e il gladiolo del 1930, due capolavori che introducono poi anche a una sezione tematica, un approfondimento tematico dedicato alla bellezza efebrica. Abbiamo intensificato il lavoro anche espositivo sugli artisti delle nostre collezioni perché è in corso il lavoro di restauro e riqualificazione di Palazzo Massari dove verranno ricollocate tutte le collezioni, tutti i musei. A quelli passati si aggiungerà anche il Museo Antonioni e quindi, mentre lavoravamo allo studio, alla valorizzazione, alla conservazione, alla catalogazione delle opere, è stato naturale anche che questo studio e queste ricerche sfociassero in mostre. Ferrara Città d'Arte e di Cultura deve lavorare sul turismo, ma deve lavorare anche per noi, per i cittadini della città, e mostrare i propri capolavori. Il prossimo anno avremo questa mostra su The Pisces, importante, un'operazione culturale con la C maiuscola perché queste quadri, a causa della chiusura di Palazzo Massari, non saranno visionabili ancora per qualche anno. Quindi in questo modo mostriamo uno dei nostri artisti di punta, così come al Palazzo di Diamanti la prossima mostra sarà su Boldini. In Castello, invece, dipingere gli affetti una mostra sui capolavori del 600, del 500, del 700 di proprietà dell'Asp. Sarà un Natale a chilometro zero all'agrimercato Grisù di Ferrara per gli acquisti Last Minute, animazioni, laboratori, assaggi e degustazioni al mercato di Campania Amica nella settimana del Dono, realizzata in collaborazione con l'Avis di Ferrara. Oggi siamo qui intanto perché questa collaborazione, in questa settimana del Dono, in senso complessivo, voglio dire siamo qua anche per testimoniare per questa collaborazione e soprattutto perché credo che l'Avis rappresenti una realtà forte nel territorio e soprattutto perché abbiamo tantissimi coltivatori diretti, della col diretti, che vengono a donare. Continua questa campagna qua, è vero, del Dono, che vuol dire anche qui, con tutte le rappresentanze che vengono stamattina tantissimi ad acquistare, è bello questo punto qua di incontro, la nostra presenza è importante in questo territorio, soprattutto perché continuiamo anche nella nostra Casa della Patria con i nostri donatori, con il progetto del Galle Orto, perciò questa settimana è una settimana veramente di grande collaborazione con la col diretti. Oggi c'è la festa di Natale, quindi il mercato sarà aperto tutto il giorno fino alle 18 per venire a ritirare e ordinare le ceste di Natale, le stelle di Natale, le confessioni nataliste, i centri tavola e poi il mercato chiuderà, quindi per le festività di Natale, riaprirà il 9 di gennaio, quindi tutti i nostri produttori vi aspettano il 9 di gennaio, orario conserto, quindi solo al mattino, dalle 8 alle 2 del pomeriggio. Bene, con questi appuntamenti si chiude questa edizione del telegiornale sul sito telestense.it potrete rivedere tutti i servizi, mentre sui social network tutti gli aggiornamenti da Ferrara e Provincia. Con questo è tutto, vi auguro una buona serata. Grazie per la visione!